Musica Non mi ero resa conto che avessi invocato con un così grande numero di persone Nemmeno io avevo mai visto un tale quantitativo di persone prima d'ora Tra non molto avrei aggiunto al tuo grimodio ogni persona esistente Ah, quasi dimenticavo Ecco, tieni Pass di velluto Lo sconto per evocare qualsiasi persona del 20% Continua a impegnarti per completare il grimodio Se lo desideri sarò lieto di fornirti assistenza Evocare tutte le persone che vivono nei tanti mondi esistenti È un'impresa che tu, fra tutti, potresti portare a termine Bene, allora Registriamo tutte le nostre persone Uuuuh, io stavo scherzando Volevo togliermi di mezzo belaglia della tavacca però Posso fare ellel Dai Teddy, facciamo la tua ultimate persona Quindi la tua debolezza è solo il vento? Ok Non lo so, mi ispira, non l'abbiamo mai vista sta persona Dai, sperando che non ci faccia errore Speriamo Bello Chi osa evocarmi Una luce tanto intensa può appartenere solo a un nobile Ti concederò la grazia divina Sono ellel Farò di tutto per essere all'altezza della forza del tuo cuore Grazie Teddy, bello Mi piace Mi piace, bello E ti dirò salvezza non è sicuramente la mia priorità Stella del mattino Uuuuh Quello è bello Ce l'aveva Lucifero in persona 5 E beh, allora Al posto di Satana ci stai volentieri Però al posto di Odino no A quanto siamo di soldi ora? Dai, poteva andare peggio Facciamo un attimo un riepilogo Attacco fisico Luce Statistiche Lui perché voglio che ci stia Fuoco Ghiaccio Fulmine Divino a questo punto E vento Chi ci manca? Uno di oscurità Ma se riusciamo a fare Alice Tanto meglio Quindi tu puoi fare sia l'attaccante fisico che l'attaccante magico Tra l'altro A tutti i nemici Danno divino ingente Uuuuh Buongiorno Beh, signore della magia e signore delle armi insieme Con due rifletti Un discepolo sagace Tanto di guadagnato, eh E al posto di guarigione istantanea possiamo mettere Grazie Angelica Dovrei averlo forse, sai? Controlliamo Meglio Grazie Angelica Insegniamola a Odino ora Tanto concentrazione non ci serve Neanche Megidolan ormai Madonna mia Stiamo giocando bene Sono contento La cosa strana è che in questo mondo ci sono A parte il nostro segnalino Due segnalini già impostati Proviamo da qui LL Eh Voglio allenarlo perché Se vogliamo salire di due livelli Bella Bella l'animazione Mi piace Dai dammi una bella mano arcana con Un level up Perfetto Perfetto Così ce ne manca solo uno Forziere dorato Paramenti Nubatama Paramenti Eccolo qua 280 32 Nessun effetto Sto dungeon Sto dungeon mi sta un po' sulle palle Perché È tutto strano Ti continua a far ritornare indietro Avanti indietro Avanti indietro Però almeno Qualche forzie dorato Lo troviamo Vediamo Un altro di questi Ottimo Ok siamo ritornati Dove c'era il buco Qua non c'era anche la zona Dove lui aveva detto Che ci stava aspettando Dov'è che era Ah eccola qua Che era chiusa da tutti e due i lati Ecco Ce l'abbiamo fatta Senpai Si è aperta Bene L'abbiamo messo all'angolo Prendiamolo Stronzone Ti faccio il culo Oh Addirittura Da una prospettiva diversa Adaci poco più avanti Ci siamo Senpai Va bene Visto che è un combattimento serio Mettiamo già trombettiere Come prima E via Siamo più che pronti Bravoo Eh, 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 eh Però non saremmo qui Su quello non è torto comunque Oh, ho mandato avanti per sbaglio, scusami Su quel punto di vista non ho nulla da dirgli contro Perché alla fine nessuna di quelle persone che hanno guardato il canale di mezzanotte Hanno messo in conto della pericolosità o di altro Certo, nessuno poteva immaginare, per carità Però, come per l'altra volta che qualcuno si è messo ad applaudire, a fare i fischi e tutto il resto Se non sbaglio mentre eravamo nel dungeon di Kanji Vuol dire che molte persone ci hanno visto Ma nessuno ha pensato che tutto quello che stava succedendo era reale È vero che lo spettatore è molto spesso inconscio Però Beh, non è tutti torti Sentiamo cosa dice di 2G, ma dai Sentiamo cosa dice di 2G, ma dai Eh, Filla Noi gli possiamo dare torto, ma è sempre la mentalità del cattivo che punta alle vere motivazioni Non c'è nessuna cosa che sta dicendo E poi troppo non si tratta di poter E poi troppo non si tratta di poter La realtà del cattivo che non si tratta di poter Non c'è nessuno che non si tratta di poter Se non si tratta di poter Non si tratta di poter Non si tratta di un figlio Eh, e quello è vero Fondere i due mondi Non è vero Ano sa Sì 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 Certo Tutti lo vogliono Coglione Ecco Quindi tu l'hai vista? Sì 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 Tu sei me Vuol dire appunto accettare e attivare la propria ombra rendendola una persona Questo vuol dire che la forma dagli occhi gialli è la loro persona che parla La loro ombra in questo caso visto che lo dice anche lui Sì 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 Beh, questo non implica che non potremmo ucciderlo, eh? Ma quello è ovvio. Ovviamente lo sappiamo quali sia le sue debolezze e i suoi punti di forza, quindi debilitiamolo. Tu, invece, potenzia Kanji. Tu aumenta la precisione di tutti. Ecco qua. E tu, per quanto in realtà perdiamo un turno di potenziamento, almeno ci carichiamo. Oh, oh, ma guarda un po'. No, no, non ti preoccupare. Torna giù, torna giù. Concentrati. E ora... Si inizia a combattere. Lama turbinante. 141, ok, non male. Non male. Possiamo fare di meglio, vero? 771. Qualcuno ha bloccato il tuo attacco, poverino. Porellino, ortellina lui. Bravo proprio. Bestia cane. Madonna mia, ti spacco, adaci. Non ci siamo concentrati, non mi ricordo più. Vai, in ogni caso colpisci. Kaboom. 418. Ha fatto di più kanji, incredibilmente. Proviamo col vento. Ha usato il fulmine, vero? In teoria. Non penso abbia debolezze, però eviterò di usare il fulmine. Giusto per sicurezza. Ti piacerebbe, adaci. Quello è lento. Aia. Ha beccato bene, eh. Ha beccato bene. E allora... Noi ci siamo concentrati, vero? Sì. Ellen. Nuova persona. Voglio farla allenare. Qualcosina di più la potevamo tirare fuori, eh. Potenziamo noi. E così. Aumentiamo il danno. Eh, lo so. C'è ragione. Lama turbinante. Devo curare, eh. Devo curare la squadra. Difesa ristabilita, ovviamente. Carichiamoci. Siamo già caricati? No. Non abbiamo caricato perché abbiamo attaccato. Ecco qua. Sì, sì, sì. Fai quello che devi, adaci. Vai, vai, vai. Provaci. Eh, lo so. Mi spiace per te, adaci. Sono pieno di oggetti che possono evitare la mia insta kill. Ah. Speravo in qualcosina di meglio, però. Allora. Megidola. Avrei probabilmente dovuto fare concentrazione o appunto carica. Ma non abbiamo avuto il tempo. O meglio, avremmo potuto. Ma in ogni caso, non ha senso preoccuparcene ora. Concentrazione. No. Vai, continua. Dai, tanto tra poco è andata. Non me ne preoccupo neanche troppo. Bravissimo, Kanji. Ok. Questo è un problema. Ma bravissima Rize. Bravissima. Se ci curi anche, mi fa un piacere. Brava. Io continuo con Megidola, appunto, perché voglio aumentare LL. Dai, dai, dai. L'ultimo colpo. L'ultimo colpo ed è andato. Addio a Darci. E... Donne pick. L'ultimo colpo ed è andato. Grazie a tutti.